la parola a Natasha per il suo intervento. Natasha è nata a San Pietro vicino Gorizia in Slovenia nel 1975, ha studiato teologia in lingua slovena all'Università di Ljubljana, dal 2002 vive e lavora presso il Centro Aletti qui a Roma, nel 2007 ha conseguito il dottorato in missiologia presso la nostra Università con una tesi sulla comunicazione della fede attraverso le immagini. Dal febbraio scorso è direttrice del Dipartimento Teologico Pastorale della Segreteria per la Comunicazione in Vaticano. Ascoltiamo il suo contributo. Buonasera anche da parte mia. Riprendo dove ci ha lasciati Don Giacomo a Monreale, cioè dove comunque in principio c'è sempre la parola. Abbiamo cominciato questo nostro incontro con il prologo di Giovanni, quindi in principio era il verbo e quello va ascoltato. Molti danno interpretazione a questo abbraccio del pantocratore, non solo come benedizione, non solo come gesto di benedizione, ma anche come un'ingiunzione del sacro silenzio, cioè silenzio ora parla il verbo. C'è un bel passo di Eudokimov che sintetizza questa presenza della parola dal principio fino a. Dice c'è un'unica e ininterrotta parola viva pronunciata alla creazione, risuonata nel corso della storia della salvezza che si è incarnata e che ora nello spirito vive nella chiesa, è consegnata nelle scritture, è celebrata nel culto, è disegnata nell'icona, è costruita architettonicamente nel tempio e così via. Ecco per considerare questo passaggio da una parola ascoltata e quindi accolta ad una visione vorrei che ci fermiamo su due parole del prologo. Una è l'attendarsi, cioè il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa parola si traduce come sappiamo anche come un mettersi nella tenda, nella tenda che è la nostra carne e infatti qui abbiamo anche a Monreale sopra, questo logos preesistente che da sempre ci abbraccia e ci attira sotto, lo ritroviamo ecco fra le braccia della Vergine come figlio incarnato. Allora da questa immagine della tenda, ecco di una tessitura, noi possiamo immaginare anche l'incarnazione stessa come una tessitura e così infatti ritroviamo, siamo adesso qui nella facoltà dei gesuiti ma c'è una cappella nella curia dei gesuiti dove l'incarnazione, il momento dell'annunciazione verrà figurato come un passaggio proprio dal rotolo del logos fino a quel gomitolo della tessitura della carne del figlio. Non è una cosa che ha inventato padre Rupnik né gli artisti del Centro Aletti ma lo ritroviamo sin dal inizi dell'arte cristiana a Santa Maria Maggiore, Arco Trionfale, inizio V secolo e dappertutto immagini anche dell'arte dell'oriente cristiano. Questa forse più esplicita è l'icona di Ustiuq dove veramente il filo della tessitrice va visivamente a tessere un piccolo corpo nel grembo di Maria. Da dove viene questa immagine? Beh dagli apocrifi che hanno un po' riempito questo racconto secco di Luca che ci informa solo che l'angelo è venuto, ha detto un paio di informazioni a Maria, lei ha risposto e poi è partito. Però gli apocrifi riempiono questo buco spiegando che non era senza far niente ma stava tessendo il velo del tempio. Ora questa cosa di per sé non avrebbe diritto di entrare nell'iconografia liturgica se non che comunque ritroviamo gli elementi della stessa cosa anche nel Vangelo, cioè i padri della Chiesa erano in grado di mettere, di sovrapporre questa immagine della Vergine che tesse il velo del tempio con ciò che comunque troviamo in Giovanni 2, no? Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò e non sapevano che stava parlando del suo corpo e poi l'altra notizia importante che quando è distrutto il suo corpo umano, il corpo umano del figlio, anche quel velo del tempio è strappato. Quindi una sovrapposizione della tessitura del velo e del corpo del figlio di Dio. Quindi Maria è tessitrice e non solo lei ma Maria insieme allo Spirito Santo è tessitrice della carne umana del logos divino. ritroviamo l'immagine della tenda anche in questa questo pezzo del mosaico di per sé enorme della cripta di San Giovanni Rotondo dove Cristo si si gira e rivolge la parola per primo ai discepoli, no? cosa cercate? Quindi l'iniziativa è sua, cioè Cristo è quella parola del Padre che da sempre ci è rivolta e la risposta dove abiti, cioè a questa risposta segue, venite, vedete. Quindi è un invito a un'esperienza, non è, non c'è una risposta con un luogo fisico, ma è un invito a fare un'esperienza. Che tipo di esperienza? Beh, se seguiamo l'immagine vediamo che Cristo indica una composizione che potrebbe essere letta come una doppia tenda, una tenda non fatta da mani d'uomo che grazie all'incarnazione appunto è diventata una tenda tessuta dalle mani d'uomo. Quindi quella tenda della divina umanità e infatti seguire Cristo significherà fare esperienza della divina umanità. Vedete che i colori suoi di Cristo, cioè il rosso della divinità e il blu dell'umanità, si ripropongono sui discepoli ma non su ciascuno di essi, bensì su loro due uniti. Quindi l'esperienza della divina umanità sarà fatta nella comunione. Un altro cosa da notare, uno dei discepoli porta il rotolo della parola, l'altro tocca la carne di Cristo, cioè i loro occhi saranno in grado di riconoscere il verbo che si è fatto, carne che si è fatto immagine, riconoscono nel figlio il logos. Ancora più esplicita forse questa che si trova invece nella cappella della fraternità a San Carlo e dove appunto sempre alla risposta dove abiti Cristo indica esattamente le immagini dell'annunciazione. Quindi ci si ripropongono queste immagini della tessitura e della abitazione, abitazione sua che poi diventerà nostra, quella della divina umanità. L'altra immagine del prologo alla quale vorrei che ci fermassimo è quella della luce. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quindi abbiamo come due punti. Il primo è la parola che viene ascoltata e accolta e il secondo di che effetto produce questa parola una volta ascoltata e accolta in noi, che è appunto la luce degli uomini, la vita, questa parola che è la vita è anche la luce degli uomini, cosa che i sinottici presenteranno con il racconto della trasfigurazione di Cristo, dove appunto viene detto che egli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime e così via. Apparve, erano riconosciuto questa cosa come bellezza. Norabi è bello per noi essere qui. Allora, questa esperienza, questo legame di vita e luce nell'episodio della trasfigurazione è, come sappiamo, non tanto Cristo che si trasforma, ma è una metamorfosi, cioè un oltre la forma, un vedere oltre, che è esattamente l'esperienza che fanno i discepoli, di vedere una cosa nell'altra, una cosa più profonda nell'altra, ciò che è appunto la bellezza. La bellezza sarà sempre legata alla luce, come in quel famoso e famosa immagine che conosciamo tutti, del carbone diamante, cioè uno lascia trasparire la luce, l'altro no, perciò uno è bello, l'altro no. Quello che lavora in sintonia con la luce è bello e quello che no, che la offusca, non è bello. Allora, il corpo di Cristo diventa trasparente per gli occhi dei discepoli perché diventano in grado di vedere la divinità nell'umanità di Cristo. Dice Giacomo di Saruc nella sua omelia sulla trasfigurazione che divenne noto ora che egli è la luce, cioè quello che Giovanni ce lo dice nel prologo, qui si fa l'esperienza nell'immagine della trasfigurazione, divenne noto che egli è la luce. Non è che si è trasformato da qualcosa per diventare qualcos'altro, era trasfigurato negli occhi degli apostoli mentre rimaneva senza cambiamento come era prima, poiché è scritto che si trasfigurò davanti ai loro occhi, non agli suoi stessi occhi, ma per loro era trasfigurato così che potevano vedere la gloria invece del disonore, poiché egli è come egli è, la luce e il figlio, splendore e luminosità. Ecco, infatti, ciò che accade nel racconto della trasfigurazione è che a questa esperienza di visione della luce si unisce una voce dal cielo, questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quindi questa voce che dà offre una interpretazione a ciò che i discepoli hanno visto, ossia che va a spiegare, guardate che quella luce del prologo è la luce della figliolanza, come del resto Giovanni stesso scrive, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria dell'unigenito. Ecco che qui possiamo già fare un'esperienza del ascoltare l'icona, l'icona porta dentro una parola che va ascoltata. Bene, andiamo avanti. Vorrei dare solo due esempi, ecco, due linee di esempi di come questa parola incarnata e questo splendore della carne umana inabitata dal logos, noi lo ritroviamo in tutto ciò che riguarda la liturgia. Appunto perciò potevamo fare esempi a non finire, ma prendiamo solo l'esempio dell'icona e dell'architettura. Proprio a partire dall'icona del volto di Cristo, Spass Nerucotvorni, quindi immagine del salvatore non fatta da mani d'uomo, nella quale già vediamo una composizione interessante che ritroveremo anche nell'architettura, cioè l'incontro fra il cerchio e il quadrato. Cerchio come un simbolo del terrestre con i suoi quattro lati e, no scusate, quadrato come simbolo dei quattro lati della terra e cerchio come simbolo dell'infinito, del sacro, del divino, cioè una forma senza inizio e senza fine. Ciò che è bello qui è che il cielo non sta, no, il cielo del cerchio non sta sopra la terra, ma dentro il cielo, il regno di Dio sta dentro di voi, sta in mezzo a noi. E su questa icona si osserva quella che poi diventa la regola anche di tutte le icone, di come c'è una progressiva, diciamo, progressivo allargamento di una luce dello Spirito Santo, no, che risiede invisibilmente nella persona umana, ma, ecco, perciò lo disegno perché non si vede, va ad abbracciare poi la parte psichica, la parte dell'anima, gli occhi, l'intelletto, la parte corporale, quindi la barba, i capelli, ma in realtà diventa visibile solo quando ha attraversato tutto, cioè la riconosce solo l'altro, questa luce dello Spirito Santo che noi non vediamo con il nostro occhio, ma l'arte ce lo dipinge attraverso l'aureola. Quindi l'oro che fa da sfondo a questa, a questa icona e a ogni icona è ciò che esattamente traduce questa visione luminosa del tabor. Questa cosa ritroviamo anche nelle icone dei Santi, cioè a partire dalla luce taborica le persone si raffigurano nel loro stato celeste, nell'umanità trasfigurata, non più il loro ritratto come lo conosciamo dalle fotografie, ma una umanità, una umanità che è resa trasparente, illuminata dal di dentro, quello che si potrebbe con un esperimento far vedere così, cioè se uno illumina lo stesso oggetto da fuori oppure dal di dentro ottiene due cose completamente diverse, anche se si tratta sempre dello stesso oggetto, non è un cambiamento di forma, è un cambiamento di luce, un essere inabitati dalla luce dal di dentro. Ecco, quello che noi vogliamo notare su queste icone dei Santi, intanto l'Aureola la riprendono tutti, questa visibilità della luce è in qualche modo quello che nell'architettura è l'abside, quello spazio circolare che ci accoglie, solo che qui è incorporato nel volto stesso della persona, il cielo viene integrato. E poi lo sguardo, lo sguardo che è sempre aperto, con la comunione che non si deve mai spezzare, anche se sono dipinti dal profilo, c'è sempre lo sguardo a tre quarti, c'è sempre un essere rivolto a. Allora il Santo è appunto proprio colui che è tutto accoglienza, che accoglie tutti ed è ciò che dice Giovanni nella sua prima lettera, Giovanni 1,7. Se noi viviamo nella luce come è lì stesso e nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri. C'è Uspensky che dice che proprio l'icona esercita una direzione spirituale nei nostri confronti, perché è come se da questo sfondo, dalla luce dell'icona, praticamente il nostro sguardo cambia. Noi ci ritroviamo che dobbiamo staccare lo sguardo dall'ombelico e quando ci ritroviamo in comunione con questo santo che è dipinto sull'icona, ci ritroviamo in comunione anche gli uni con gli altri. Ecco perché appunto si tratta di una direzione spirituale, non solo, da qui parte anche uno slancio di evangelizzazione, perché un occhio che è rivolto agli altri si accorge, non si accorge dell'altro, si accorge di ciò che vorrebbe anche comunicare. Allora attraverso l'icona appunto noi acquisiamo questi occhi altri per vedere l'altro così come sarà in questa luce definitiva, quando sarà completamente inabitato dalla luce e ciò ci libera anche da quella tentazione di giudicare qualcuno, inclusi se stessi, prima del tempo. Bene, passiamo da qui ancora a vedere come la luce taborica genera anche uno spazio trasfigurato, uno spazio che è un luogo oltre, un appunto metamorfosi, un luogo al di là di ogni luogo, un luogo come ho sentito proprio settimana scorsa qualcuno esprimersi che è entrato in una cappella simile a come potrebbe essere il Duomo di Monreale o come potrebbe essere questa basilica di Santa Maria Maddalena Veslea, dice non volevo uscire, non volevo uscire perché lì dentro mi sentivo che sto in un luogo dove nulla di male mi può succedere. Ecco questa è l'esperienza che offre un'architettura inabitata dalla luce che è già oltre, che è fuori da questo mondo, che è fuori dai pericoli anche di questo mondo. chiaro è un'anticipazione ma l'esperienza è quella che appunto genera una memoria del futuro, una memoria del regno e quindi anche attira a questo. Bene, questa basilica era anche il tema del mio dottorato nove anni fa, quindi adesso vediamo se riesco di nuovo in 29 minuti, no, 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 sarà molto più breve perché quella volta bisognava cronometrare 29 minuti e neanche uno di più. Intanto vedete che entriamo attraverso questo portale in uno spazio, una navata romanica che però poi alla fine c'è un coro gotico il che fa sì che c'è una veramente una progressione della luce man mano che uno si incamina dentro. È una chiesa come erano le chiese dell'epoca rivolta ad oriente, no, le chiese sono rivolte ad oriente dove nasce il sole perché in esse è venerato il sole di giustizia e nell'oriente si trova il paradiso, nostra casa, come ci viene annunciato nella chiesa, è simboleggiata la chiesa con la maiuscola in essa radonata per il servizio di Dio. Quindi un orientamento che è esattamente verso il paradiso, ossia verso il regno, verso essere orientati appunto a avere una direzione chiara che è appunto una memoria di ciò che sarà. Cioè noi attingiamo una memoria al futuro e veniamo attirati a questo futuro. Nell'architettura del portale troviamo le classiche forme con le quali gioca l'architettura romanica, il cerchio, il quadrato e il passaggio fra i due che è la croce. Quindi c'è qualche studioso che dice che tutta la questione dell'architettura romanica non è altro che la quadratura del cerchio, cioè il passaggio della divina umanità. In più, oltre a questa luce appunto che riempie così, in un modo così bello questa basilica, c'è un gioco che è stato scoperto un po' per caso da un padre francescano che per lunghi anni pregava in questa basilica, a un certo punto si è accorto che al solstizio d'inverno, al solstizio d'estate, succede qualcosa di interessante. Cioè al solstizio d'estate le chiazze di luce, attraverso la finestra, la luce entra in modo tale che forma un cammino che va dal portale fino all'altare. e al solstizio d'inverno, cioè a Natale più o meno, la luce va a colpire esattamente i capitelli, animando in qualche modo tutte queste storie che raccontano la genealogia di Cristo, la contestualizzano in una storia che va da prima e anche una storia che si apre che è quella della Chiesa. Bene, tra questi il più famoso, più bello, solo per farvi appetito di andare a visitare questo luogo, è il mulino mistico dove da una parte Mosè mette il grano dentro questa macina e dall'altra Paolo prende la farina, per dire che appunto tutto ciò che era nell'Antico Testamento e noi lo possiamo veramente gustare e mangiare solo perché è passato attraverso questo mulino che in fondo è ben identificato con Cristo, perché qui non si vede su questa immagine ma pare che in un dato giorno la luce va a colpire esattamente quella croce che sta sulla ruota del mulino, quindi si sono divertiti parecchio a studiare queste concordanze anche con il cosmo. Bene, quindi dicevo invece al solstizio d'estate, quindi intorno alla festa di San Giovanni Battista, la luce ci conduce esattamente da qui dove è, non so se voi riuscite a vedere che c'è questo trumò, questo pilastro iniziale con una figura sopra che non si riconosce più che è appunto San Giovanni Battista che tiene l'agnello nella mano e dietro di lui si apre questo cammino, non come se ci dicesse io devo diminuire, lui deve crescere, quindi ci accompagna proprio a Cristo. E poi c'è questo timpano che è conosciuto come il timpano della missione ed ecco perché visto che siamo nella facoltà di missiologia, volevo chiudere con questo proprio, dove c'è una sintesi teologica fatta di ascensione, pentecoste, missione degli apostoli e se volete anche un'apertura all'escatologia, perché Cristo sale, sale e è salito al cielo e siede alla destra del padre, e quindi è anche già arrivato perché sta seduto su un trono, ma quel trono è dipinto come una Gerusalemme celeste, quando noi l'abbiamo visto salire era una partenza, ma in realtà si inaugura soltanto ciò che sarà la seconda venuta quando la Gerusalemme celeste invece scende dal cielo. È abbracciato e avvolto da questa mandorla che dice la stessa cosa che dice il cerchio, cioè sta già nel cielo, però le sue mani escono fuori perché la porta è rimasta aperta per noi, tutti dobbiamo seguirlo. Dalle sue mani, questi li ho disegnati io, perché non si vede più la pittura, tutte queste sculture erano dipinte, all'epoca ci sono in alcune parti le tracce che lo testimoniano, però non lo vediamo più, perciò li ho evidenziati questi raggi dello spirito che viene mandato sugli apostoli, quindi ecco che la scena diventa anche pentecoste. Un po' di dettagli, il vento che muove, no, il vento dello spirito che muove anima i vestiti anche degli apostoli, e c'è appunto un movimento proprio nei vestiti che anche quello non è casuale, ma è per dire che c'è proprio un movimento di uscita, un movimento centrifugo, è un movimento opposto, cioè quando tutto deve essere attirato a Cristo, affinché tutti nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, possano tornare al Padre. Ebbene, portano i libri, sì, perché chiaramente dovranno annunciare la parola fino agli estremi del mondo, qui vi ho evidenziato stavolta Giovanni Battista, la sua presenza di colui che ha battezzato, parla anche del battesimo, c'è Pentecoste come battesimo degli apostoli, e lì ha battezzato con acqua, invece poi ci sarà il battesimo con il fuoco e lo spirito. E questa immagine evidenziata a Canto spesso la uso anche come prova al negativo del fatto che c'è anche da noi in Occidente una certa teologia dell'immagine, anche se non l'abbiamo mai elaborata così come è stata elaborata nell'Oriente cristiano. ossia, se anche non l'abbiamo elaborata, la gente percepisce naturalmente una potenza dello sguardo, una potenza del gesto, e guarda caso i rivoluzionari, la rivoluzione francese che si è data a questo compito di distruggere anche un pezzo di questo bel timpano, non ha cominciato dai piedi di Giovanni Battista, ma doveva salire almeno fino al volto. Quindi distruggere, e ci sono altri esempi di questo, distruggere il volto, spegnere lo sguardo, perché lì dentro si nasconde una potenza di comunicazione. Quindi dico è una prova al contrario, però è una prova. Bene, questo timpano è quello centrale, ma ce ne sono due laterali, quello della natività, cioè nascita, incarnazione, e dall'altro lato Pasqua, quindi abbiamo le tre peste principali che ci introducono nella Chiesa, Natale, Pasqua e Pentecoste. Ora sto evidenziando invece il primo cerchio di questo timpano dove si trovano i popoli della Terra, cioè l'elenco che potrebbe corrispondere a quello degli Atti, cioè i popoli presenti nel giorno di Pentecoste che stranamente capiscono, anche se ognuno parla un'altra lingua, ma qui sono raffigurati chiaramente attraverso quello che era il catalogo del Medioevo, dei popoli che si raffiguravano come li immaginavano. Quindi questi qua sarebbero i pigmei che hanno bisogno della scala per montare sul cavallo. Poi ci sono questi qua che sono molto interessanti, si chiamano cinocefali, che sarebbero quelli più duri da convertire, assolutamente il più grande vanto di un evangelizzatore era convertire un cinocefalo. Da qualche parte ho letto che San Cristoforo era un cinocefalo. E poi invece ci sono anche quelli più facili, per quelli che non hanno studiato missiologia, sono quelli che invece proprio aspettano a tutte orecchie, i panozi, tutte orecchie, aspettano l'annuncio della parola di Dio. E andiamo avanti e troviamo ancora l'altro cerchio, il cerchio esteriore, che mette insieme lo zodiaco ai lavori dei mesi. Ne vediamo alcuni. Ecco, un pastore, un soldato che si riposa prima di ripartire per guerra, due lavori agricoli, e poi per chiudere, cioè quindi troviamo in questo timpano Cristo presentato come il cosmo creatore, cioè colui che unisce tutto il cosmo, e il crono creatore, quindi colui che è il centro di tutto il tempo, ma le ultime due immagini sono un po' fuori da questo elenco, cioè le immagini alle estremità sono uno che taglia il pane e uno che porta una brocca di vino, quindi a chiudere tutto questo timpano, timpano tutti questi lavori del mese e esattamente il pane e il vino che abbracciano il lavoro di tutto l'anno, quindi simbolo, pane come simbolo della quotidianità e vino come simbolo della festa, ossia le due cose che esprimono tutto ciò che noi portiamo nell'Eucaristia perché possa diventare parte del corpo di Cristo. Ed è così che l'arte e l'architettura attraverso la liturgia ci aiutano a contemplare questa trasfigurazione della nostra vita a partire da lì, proprio a partire dall'Eucaristia. E chiudo con le parole di Olivier Clément che si esprime così sulla trasfigurazione. La trasfigurazione è uno sprazzo, un bagliore di quel regno che il Cristo stesso. Una luce che è anche quella di Pasqua, della Pentecoste, della Parusia, quando con il ritorno glorioso di Cristo il mondo intero verrà trasfigurato. Ora questa luce ci è donata nel pane e nel vino eucaristici. È lì che i nostri occhi si aprono e noi comprendiamo che il mondo intero è intriso di questa luce. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.